Siamo oggi con Alessio Ciacci, commissario liquidatore di Messina Ambiente. Una personalità per la Sicilia, con una grande esperienza per quanto riguarda già la cittadina toscana di Capannori in provincia di Lucca. Un uomo che ha dato un forte impulso a un cambiamento radicale nella gestione dei rifiuti. Oggi al comando di Messina Ambiente. Come pensa appunto di contestualizzare questa sua nomina facendo anche tesoro dell'esperienza acquisita in passato in altre regioni? Buonasera a tutti. Fino a non molti anni fa, parlando di rifiuti zero, molti credevano che fossero solo delle utopie, delle idee difficili, quasi impossibili da realizzare. Per fortuna non solo a Capannori che è stato il primo in Italia a partire con questo obiettivo, ma anche sempre più comuni, oltre 200 comuni italiani hanno aderito a queste esperienze. Stanno costruendo risultati ovunque, nel nord, nel centro, nel sud del nostro paese. Quindi è con estremo orgoglio e soddisfazione che ho raccolto questa sfida. Senz'altro è molto più difficile di tante altre sfide del resto dell'Italia, ma è un elemento essenziale se vogliamo costruire non eccellenze, ma possibilità di futuro. Perché sempre più gli ricercatori, gli scienziati di tutto il mondo, ci dimostrano come solo in un'ottica di rifiuti zero possiamo garantire un futuro alle future generazioni. Quindi non è la scelta tra un futuro migliore e peggiore, è la scelta tra un futuro possibile e uno purtroppo no, perché stiamo sfruttando troppo le nostre risorse, il nostro pianeta. Quindi solo in un'ottica di rifiuti zero possiamo dare non solo prospettive positive, ma anche sviluppo, inteso come un'economia più attenta all'ecologia. Parliamo con un manager, quindi chiaramente utilizziamo anche un linguaggio tecnico. Parliamo dei punti SWOT, quindi i pro, i contro, vantaggi, svantaggi, le opportunità che un progetto di questo genere ci porta e poi ovviamente anche che le potrebbero essere i lati negativi un po' della situazione, no? Allora, Messina Ambiente serve due comuni, Messina e Taormina, con caratteristiche diverse e con potenzialità anche diverse, con problematiche diverse. Quindi siamo qui stasera a Taormina, innanzitutto ringrazio il comitato rifiuti zero che ha organizzato questo importante incontro pubblico, così come il comune che ha raccolto questo invito. Partiamo dalla situazione che qui si vive a Taormina, un comune di un estremo prestigio e di un'estrema eccellenza dal punto di vista turistico che, senz'altro, a mio giudizio, merita quest'altrettanta eccellenza nell'organizzazione dei servizi locali. Così come in altri contesti italiani, quando si parla di rifiuti non ci si deve limitare alla gestione di una problematica, ma cogliere questo servizio come la costruzione di una prospettiva positiva di sviluppo, diciamo, della qualità di un territorio. Quindi da una visione dove i rifiuti sono purtroppo spesso un problema ma una visione dove sono una risorsa, una risorsa sia per costruire un'economia attenta all'ecologia ma anche per costruire un turismo, un'attrazione di turismo di qualità attento all'ecologia. Non è un caso che, appunto, Capandoli, che era un comune sconosciuto a livello italiano, in pochi anni è diventato un'attrazione forte per le sue politiche ecologiche. Quindi guardare a quell'esperienza a Taormina ha un grande significato perché se Taormina ha enormi potenzialità in più, chiaramente solo per essere Taormina, si abbina però a un percorso di qualità anche su questo settore, è chiaro che si unisce una costruzione di qualità enorme che va, senz'altro, a beneficio degli attori locali del territorio ma anche, appunto, a la cittadinanza perché senz'altro non dovrà più, diciamo, con le proprie tariffe coprire i costi e gli smaltimenti ma invece cogliere le opportunità positive, senz'altro, del riciclo. Ecco, la Toscana, la Sicilia sono contesti completamente diversi, come lei già sottolineava. Lo sono anche Messina e Taormina che hanno realtà ed esigenze completamente diverse una città metropolitana con chiaramente poi una realtà turistica. Attualmente vige pure un po' di confusione a Taormina perché sappiamo bene che il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità il piano rifiuti zero. Di fatto però c'è stata una proroga a Messina Ambiente. La cittadinanza è un po' confusa, ci aiuti un po' a fare chiarezza? Sì, allora, innanzitutto Messina Ambiente è un'azienda che è di proprietà sia dei comuni di Messina che di Taormina. Ora con il nuovo quadro normativo regionale i comuni hanno la possibilità di decidere nella costituzione dei propri aro se appunto fare degli aro come Messina e Taormina possono fare nominativi solo dei rispettivi comuni o se abbracciare più comunità. Nel nostro caso noi ci auguriamo che ci sia una nomina di aro singolo in modo che essendo già comuni proprietari dell'azienda possiamo dare continuità al servizio e sfruttare questa opportunità in senso positivo cioè andando a costruire quel percorso verso rifiuti zero nel più breve tempo possibile senza rallentamenti burocratici che senz'altro purtroppo in questa terra vedo spesso rallentano molto questi grandi slanci ideali. Quindi in questo momento ci troviamo appunto da una parte a condividere con l'importante contributo del comitato rifiuti zero quelle che sono le priorità che anche il territorio sente dall'altro con l'amministrazione comunale a fare un percorso per capire come prima possibile strutturare questa rivoluzione del servizio che l'azienda vuole fare sviluppando chiaramente la raccolta differenziata. Fra l'altro c'è un'importante opportunità perché proprio dall'azione anche del comitato è nato alcuni anni fa un progetto che è stato mandato in Regione la Regione ha accettato come finanziamento purtroppo è rimasto fermo per tanto tempo ci siamo attivati subito dai primi giorni della mia nomina per riprendere questo finanziamento che pochi giorni fa in Regione ci hanno confermato essere appunto disponibile seppure in maniera più limitata di qualche anno fa ma è disponibile appunto appena si costituisce l'Aro quindi siamo diciamo ai blocchi di partenza sperando appunto di poter partire il prima possibile ma siamo sicuri che questa interlocuzione positiva che da stasera senz'altro assumerà un contorno ancora più definito tra comitato, comune e azienda possiamo diciamo togliere ogni dubbio e mettere diciamo nella agenda le tappe successive di questo percorso. Ecco dottore Ciacci, dopo l'adesione agli Aro che sarà una scelta politica ovviamente poi bisogna procedere oltre perché come ben sappiamo rifiuti zero è una filosofia di vita non è un semplice cambio nella modalità della raccolta dei rifiuti quindi chiaramente le cittadine turistiche abbiamo anche gli stranieri che possono darci un impulso perché da loro già è una scelta consolidata ma chiaramente bisogna anche portare gli abitanti a cambiare stile di vita a cambiare modo di pensare questo ha bisogno di certi tempi tecnici come pensa di procedere lei? Sì, ecco il percorso è un percorso che appunto come dicevo prima vorremmo condividere con il territorio quindi amministrazione comunale, soggetti imprenditoriali e comitato e nell'idea che diciamo ci siamo fatti da cui appunto partiamo con questo confronto è l'idea di entro fine anno cambiare l'organizzazione del servizio su una quota consistente dell'abitato di Taormina quindi partire in una determinata area coinvolgere i cittadini fare informazione sui cambiamenti che necessitano organizzativi con l'abbandono del sistema di raccolta a cassonetto il passaggio al porta a porta e quindi da una parte avviare questo percorso organizzativo diverso del sistema di raccolta preparato bene con la partecipazione dell'associazionismo e rivolto alla formazione della cittadinanza dall'altro anche appunto iniziare a strutturare con l'amministrazione comunale e i soggetti del territorio iniziative anche per la riduzione della produzione dei rifiuti e al contempo per avvicinare il più possibile la valorizzazione dei materiali perché senz'altro diciamo in Sicilia ad esempio si vive diciamo una criticità soprattutto nel riciclo della parte più importante del rifiuto che è quello organico ecco questa criticità vorremmo trasformare l'opportunità quindi avviando la raccolta differenziata quindi avendo l'opportunità di avere un organico di qualità cercare di magari anche vicino qua vicino di anche appunto con qualche piccolo investimento di trasformare in loco l'organico in compost sarebbe diciamo la chiusura di un circolo ideale in un'ottica appunto sia di valorizzazione dei materiali che di rifiuti zero un'obiezione che si può fare a questo è che molti demono è quello che in questo potrebbe comportare una riduzione del personale quindi chiaramente in un momento di particolare crisi creare appunto degli squibri libri sotto questo punto di vista possiamo dare una rassicurazione agli operatori che questo non avverrà e che comunque verranno mantenuti i posti di lavoro Assolutamente sì tantissimi sono gli esempi dove appunto come indica l'Unione Europea si disaccoppia la crescita economica alla crescita dei rifiuti cioè si valorizza una crescita economica che non comporta la produzione di scarti materiali e questo lo si ha su tantissimi esempi da le incentivazioni che si possono dare alle attività economiche che ad esempio riducono la produzione di rifiuti già numerosi sono esempi comuni che sia alle attività commerciali ma anche agli albergatori e anche ai ristoratori danno qualche incentivo per appunto chi dimostra di poter ridurre la produzione degli scarti questo appunto non va a deterioramento poi del personale assunto per la raccolta anche perché appunto si trasforma diciamo il ruolo di questi operatori da operatori che semplicemente ripetono ogni giorno lo svuotamento del cassonetto a operatori che invece interagiscono col territorio e con gli operatori del territorio per migliorare continuamente i risultati dell'azienda si dovrebbe ovviamente secondo la filosofia di rifiuti zero anche operare delle scelte quindi chiaramente lei non so se ha avuto già modo di visionare un po' il territorio per ovviamente creare poi le famose isole ecologiche quindi dei centri che chiaramente aiutino in questo e che sono fondamentali in un progetto come rifiuti zero lei già ha pensato a una collocazione spaziale dove possa avvenire questo? Sì, su questo già ci siamo confrontati sia in azienda che con l'amministrazione comunale abbiamo già individuato una prima area che speriamo già da entro fine anno quindi con la partenza del porta a porta possiamo destinare a questa attività un'area che già si presta a questa attività che non comporta diciamo l'accesso al pubblico invece vorremmo riqualificarla e dotarla diciamo di tutte quelle attrezzature all'avanguardia che permettano diciamo al cittadino di conferire essendo registrato e quindi magari anche di studiare con l'amministrazione comunale dei vantaggi per i cittadini che conferiscono alle isole ecologiche Ecco concludendo perché chiaramente non dobbiamo dimenticare che tutto questo comporterà un enorme risparmio economico ma è impensabile avviare questo tipo di progetto in piena stagione quando pensa che possa partire il progetto Sì, noi appunto ci stiamo confrontando sui tempi vorremmo partire appunto subito dopo l'estate con la definizione appunto di tutte le scelte progettuali che entro fine anno speriamo di poter attivare operativamente quindi per essere pronti in primavera a affrontare la nuova stagione turistica già completamente pronti a aver già rivoluzionato il sistema aver già formato tutti i cittadini aver già coinvolto gli operatori economici del territorio quindi essere pronti a affrontare quella grande sfida che senz'altro per Taormina è la principale per dimostrare che si può migliorare anche la qualità della vita con queste progettualità Grazie e buon lavoro Grazie